La questione ospedale e sanità infiamma la politica omeniese. All'attaccare l'amministrazione Marchioni è sinistra comune attraverso un comunicato a firma di Mimma Moscatiello. In questi due anni abbiamo assistito a tanti dietrofront e cambi di opinione del sindaco. In un primo momento aveva dichiarato di non essere contrario all'ospedale unico, ma l'unica cosa che interessava allora al primo cittadino era che gli uffici amministrativi rimanessero a Domenia. Poi Marchioni, così Moscatiello, ha proseguito dicendo che gli ospedali San Biagio e Castelli non dovevano chiudere ed ha espresso contrarietà alla costruzione dell'ospedale unico Ornavasso. Ci dica in maniera chiara e definitiva come la pensa. L'ultima butata, quella che la soluzione ospedale nuovo alle porte di Domodossola sarebbe auspicabile e fattibile per evitare le proteste degli ossolani, ha dell'incredibile. Quando è stato eletto Marchioni ha dichiarato di avere a cuore omenia. Sicuramente con queste dichiarazioni non dimostra di avere a cuore la salute dei cittadini omeniesi. Vorremmo ricordargli che durante la campagna elettorale, parafrasando Salvini, dichiarava prima gli omeniesi. Abbiamo buona memoria e ci ricordiamo la promessa dell'apertura del pronto soccorso anche di notte ed anche su questo. Finora non è stato fatto nulla, tutto nel dimenticatoio. Solo noi di Sinistra Comune avevamo detto che erano dichiarazioni che prendevano in giro gli omeniesi e avevamo espresso perplessità sulla realizzazione di queste promesse elettorali gettate in pasto al popolo solo per raccogliere voti. Avevamo ragione, ma purtroppo della nostra ragione gli omeniesi se ne faranno poco. Diciamo al sindaco di rispettare i cittadini e gli impegni elettorali, conclude Moscatiello.